Buongiorno a tutti, benvenuti alla resegna stampa di oggi, martedì 18 luglio. Questa è Fano TV sul canale 17, l'informazione alle 7.30 del mattino in diretta. Allora, buongiorno di nuovo. Cominciamo dal Santo di Oggi, poi le previsioni del tempo e i giornali. Il Santo di Oggi è San Federico Vescovo, il sole è sorto alle 5.42, tramonterà alle 20.47. Per quanto riguarda il tempo, sono giornate di sole con temperature che riprenderanno a salire, sono in aumento. I venti continueranno ancora di brezza tesa, settentrionali questa mattina, poi dal tardo pomeriggio invece ruoteranno e arriveranno da sud, quindi aumenterà un po' la temperatura ancora domani, vedete, mercoledì 19, ancora cielo sereno su tutta la regione Marche, a parte qualche nuvolosità di transito soltanto nella parte interna della regione. Ancora venti a regime di brezza, vento moderato lungo la costa nelle ore centrali di domani. Il mare sarà quasi calmo, però sarà poco mosso nelle ore centrali per effetto del vento. Giovedì 20, giovedì 20 ancora praticamente fotocopia rispetto alla giornata di domani. Cielo sereno sulla costa e qualche nuvola invece nell'entroterra. Anche i venti saranno di brezza tesa con intensità massima nelle ore centrali e il mare sarà come domani quasi calmo e poi un po' mosso invece intorno a mezzogiorno alle 2. Tempo stabile per tutto il fine settimana con temperature in aumento. Andiamo sul giornale Il Carlino, l'edizione di Pesaro. Questa è la fotografia del risultato di ciò che ha combinato un quindicenne che si è messo alla guida di un camion, di un furgone e che poi a un certo punto ha avuto un inseguimento con la polizia. La polizia ha sparato sulle gomme e alla fine lui si è ribaltato. Una notte brava, cattolica, poi rientro su un furgone rubato. Polizia spara le gomme in mezzo, il mezzo si ribalta alla guida appunto, come dicevamo, un quindicenne. Il titolo è Folle in seguimento. Poi, in breve, la nautica che risorge dalle ceneri a Pesaro, spunta una Ferrari del mare. Varato il nuovo yacht di Raffaelli, nome storico della cantieristica pesarese. Nella ex Mocky Craft si sta completando un bolide da 60 nodi di velocità. Poi, una ragazzina di 16 anni che si era sentita dire dai genitori, stasera resti a casa. E lei invece cosa ha fatto? Si è calata dal balcone, cade e si rompe le gambe. E poi i concerti, i concerti al Bene di Pesaro, 40 mila euro per il palco. Adesso si fa un po' i conti di questo flop, di questi concerti che sono saltati, poca gente. In realtà la location non era il massimo della vita. E poi i funerali di Adriana e Loris, l'ultimo viaggio insieme, come per tutta la vita. Ripartiamo da qui allora con la pagina del resto del Carlino e di questo funerale che si è tenuto ieri a Calcinelli di Saltara, Colli al Metauro, una chiesa gremita, quella di Santa Croce per l'addio ai coniugi Fratticelli, l'una accanto all'altro, come d'altra parte è stato per tutta la vita. Centinari di persone hanno preso parte al commiato, tra cui anche il sindaco Stefano Aguzzi. E la pagina del Corriere Adriatico invece con ancora la foto bella, molto bella, dei due coniugi appunto Loris e Adriana. Quel silenzio carico di dolore, Loris e Adriana, folla da Dio, allo strazio di Colli al Metauro per i funerali della coppia morta in un incidente. Le note musicali di un violino in mezzo alle lacrime. Il sindaco Aguzzi dice che è stata una grande perdita, infatti nessuno potrà mai dimenticare il grande amore che Loris nutriva per la sua Calcinelli, per tutti gli amici e per quanti hanno lavorato per decenni insieme a lui. Lo ricordiamo, Loris Fratticelli è stato l'imprenditore, titolare di un grande salumificio molto noto, molto conosciuto in tutta la provincia. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, hanno un'apertura simile. L'apertura è per l'incontro che c'è stato tra i residenti del quartiere Poderino e l'amministrazione comunale di Fano. Qual era il tema del contendere? Praticamente questa struttura, che poi è stata modificata, questo è un pallone, cioè il prima, vedete, e il dopo. Che cos'è il primo e il dopo? Qui c'è questa via dove si vede sullo sfondo la collina, il cielo, l'azzurro, eccetera, eccetera. Qua invece c'è il pallone, quelli che vanno adesso sportivi, dove dentro si fa appunto dell'attività agonistica, attività sportiva. I residenti del Poderino non sono contenti di questa struttura, anche se poi il pallone è stato scartato come ipotesi, ci ha pensato in realtà il vento a buttarlo giù, da lì l'idea di fare una struttura fissa, però non piace. Non piace, bocciata pure la palestra in legno, scrive il giornale, ha archiviato il pallone, la nuova soluzione però non convince. La proposta è di costruire la struttura 100 metri più là, la replica, dicono, agiamo nell'interesse di tutti, non è una cosa personale, non è una cosa che ci riguarda, che riguarda soltanto una società, ma riguarda tutti quelli che poi verranno qua a fare sport. Dopo la piscina invece l'assessore Caterina Delbianco punta sul nuovo palazzetto dello sport, si parla tanto di queste strutture ormai vecchie, ormai non più idonee, soprattutto per i grandi eventi sportivi e dunque se si vuole portare anche turismo fuori stagione bisogna che queste strutture siano di nuovo, siano in qualche modo al passo con i tempi e a norma, non che non lo siano quelle che ci sono adesso, chiaramente. Poderino, un altro calcio al pallone, faccia a faccia tra il comitato di quartiere, sindaco, ossessore e Virtus, Virtus è la società di impallavolo appunto che ci ha messo dei soldi, tra l'altro, credo sui 100 mila euro, poco più, per realizzare questa struttura presso statica nella zona della trave. I residenti dicono no anche al nuovo progetto ridotto, oscura il cielo e le colline e poi dicono le case così saranno svalutate, cioè valgono di meno. Il presidente Iannelli, noi abbiamo agito nel rispetto della legge, nessun interesse privato e questa è la pagina di Fano del Corriere Adriatico. E sempre sul Corriere c'è la notizia ancora oggi del Carnevale, un Carnevale che abbiamo visto ha chiuso il battenti domenica, è andato bene, fuori stagione comunque riesce ad attirare numerose persone, soprattutto turisti, ha fatto il sold out, cioè il tutto esaurito. Questa tre giorni ha riempito Sassonia e il Porto, la presidente dell'ente carnevalesca Gian Marioli dice la prossima estate faremo lo stesso mix. Mancata però una forte idea promozionale che facesse da vetrina all'evento invernale. Per quanto riguarda l'altra pagina del Corriere di Fano, servono più vigili urbani, ma non per fare solo le multe, i 5 Stelle attaccano, invitano il sindaco Seri ad una diversa gestione dopo il cambio del comandante, dopo che è andato in pensione il comandante Giorgio Fuligno. Basti pensare, dicono quelli dei 5 Stelle, che a Pesaro con una popolazione quasi doppia, quella di Fano, l'ufficio violazioni a la metà del personale di quello di Fano e incassa il triplo. I sindaci contro la Regione Marche, ospedale spogliato di tutto, siamo sulla pagina di Pesaro e provincia, per tutelare l'ospedale e i suoi servizi essenziali, è stata prospettata ieri a Fossombrone la costituzione di un comitato che veda anche la componente medica al fine di avviare una campagna di sensibilizzazione e di richieste motivate di fronte alle quali la Regione non potrebbe tirarsi indietro. La fotografia si riferisce alla visita che tre sindaci e un assessore hanno fatto ieri nell'ospedale di Fossombrone. Tanti sono andati a cercare un posto di lavoro al McDonald's che aprirà a Pesaro e di questo parlano i giornali Carlino e Corriere questa mattina. Sono mamma disoccupata, sono pronta a lavorare al fast food, come lei decine di giovani che si sono sottoposti alle selezioni di McDonald's in piazza a Pesaro. La siccità picchia sulle marche, danni per 30 milioni di euro, dossier della Coldiretti, sono tante le coltivazioni in difficoltà, il caldo e l'acqua che scarseggia continuano dunque a colpire l'economia, salgono a 30 milioni di euro. I danni causati dalla siccità all'agricoltura marchigiana, secondo quanto emerso dal dossier della Coldiretti, sull'impatto delle eccezionali situazioni climatiche presentato dal nuovo Presidente, dal Presidente Roberto Moncalvo all'Assemblea Nazionale a Roma alla presenza degli imprenditori della Regione e quindi salgono pesantemente anche i costi per l'irrigazione dei campi. La prima pagina del Corriere Adriatico invece, al di là del furto, dell'inseguimento degli spari, come abbiamo visto dove al volante c'era un 15enne, la fotonotizia è per questi due cagnolini che sono diventati un po' delle star. A sinistra vedete Ronda che è stata salvata in Extremis ed ora è una star perché il padrone voleva ucciderla perché si rifiutava di combattere e a destra invece Maia, il cane eroe morto prima di essere premiato. Ronda e Maia adesso sono cani da prima pagina, gettata dalla moto, diventata una campionessa, l'altra invece mise in fuga i ladri, però purtroppo è stata prima di essere premiata e morta, è morta ieri. Sulle pagine interne del Corriere Adriatico, dite no, siamo Urbino, dite no alla ciclabile sulla Fano Urbino, altrimenti il treno non passerà mai più. Appello ai sindaci di Fabri, 5 Stelle, la linea può ripartire, non firmate dunque l'intesa con la regione che prevede invece una pista ciclabile e qui sotto vedete Pier Giorgio Fabri. Andiamo sull'altra pagina di Urbino, torniamo sul Corriere, la cronaca dove un paziente abbandonato ieri all'ospedale, quando lo hanno ritrovato si è messo a picchiare praticamente tutto quanto, un paziente che sparisce nella notte dal suo letto in ospedale, al mattino tutti a cercarlo, lo trovano fuori che urla e strepita, tanto da doverlo sedare, ma la violenza è tale che i sanitari sono stati costretti a far intervenire anche le forze dell'ordine. I testimoni parlano di un uomo che era fuori di sé, urlava e dava in escandescenza contro chiunque per sedarlo e dovuta intervenire la Guardia di Finanza. Dalla Valle del Cesano per gli automobilisti è una bella notizia, ha aperto il ponte dell'Acqua Santa, due province ora si riabbracciano, infatti il viadotto collega Mondavio a Corinaldo era crollato nel 2011 ed è costato oltre 3 milioni di euro. I sindaci dicono in coro che è una struttura fondamentale per l'economia e per l'indotto turistico. Mentre sempre dalla Valle del Cesano da Terre Roveresche perdiamo 50 residenti all'anno, un paese che si spopola come tanti, quelli dell'entrotero, un paese che però per i giovani si può. Terre Roveresche, il sindaco, corre in ripari 200 euro al mese a chi fa figli e avrà servizi costi limitati. Dunque un modo per trattenere questi giovani che invece abbandonano questi paesi dell'entroterra, 200 euro ha spiegato Antonio Sebastianelli che è il sindaco, appunto il nuovo sindaco di Terre Roveresche, 200 euro per rimanere lì. Ora la pagina di Sedigaglia, alcol ai ragazzini, tolleranza zero, chiuderei i locali che li vendono. Mangialardi è il sindaco di Sedigaglia, è durissimo su questa storia, su questa cosa, questa brutta abitudine, anche se poi i ragazzini non dormono e quindi li vediamo spesso con zainetti pieni di bottiglie, le vanno a comprare al supermercato, si trovano in un modo o nell'altro riescono sempre a riempire questi zaini e poi fare festa. L'allarme è all'incontro del Comitato Provinciale per la Sicurezza a Sedigaglia e poi la fotografia con la protesta dei residenti per questi bivacchi notturni e soprattutto atti vandalici in via Istria, sempre a Sedigaglia. La fotografia che vedete sul vostro televisore vi fa capire un po' com'è andata. Bottiglie, bottiglie di birra, soprattutto bottiglie di birra, poi insomma sigarette e quant'altro e atti vandalici. Sotto invece i ladri in rosticceria, resta una bocca asciutta, doppio colpo al Cernin, presa di mira anche una clinica veterinaria. Chiudiamo con due pagine, una da San Benedetto del Tronto, ha fatto il giro dell'Italia, la notizia di quella ragazza di 27 anni morta nella giostra di un Luna Park a San Benedetto del Tronto. Ora i familiari di Francesca distrutti dal dolore hanno ribadito anche davanti agli avvocati, la giovane non si è slacciata le cinture. La giostra è un fotogramma, vedete, che ritrae questa capsula gravitazionale in volo che viene slanciata in aria e purtroppo Francesca non aveva o comunque si sono slacciate le cinture e lei è partita. Ora la giostra è sotto sequestro, questa giostra killer, c'è anche un'indagata che chiaramente non può che essere la proprietaria di questa attrazione. Ora entrano in gioco le perizie, la decisione dopo un incontro in procura, iscritta Graziella Metastasio, che è la titolare dello slingshot, che è il nome di questa giostra che adesso, vedete, è coperta da questo telone con tanto di cartello, con scritto che appunto questa attrazione è sotto sequestro. Sono tante le cose da chiarire, gli elastici sostituiti pochi giorni prima e lo scambio di posto della ragazza. L'ultima pagina invece è per dire che l'Ancona Calcio non esiste più, non esiste più perché è definitivamente in crack. Ora è finita l'annuncio shock dell'amministratore delegato Miani che dice non possiamo iscriverci in Serie D, salvare la società è impossibile, il terzo default del club calcistico in 13 anni salta in extremis anche il tentativo del gruppo Bresciano di salvare l'Ancona. È tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, l'informazione su Fano TV torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia, vi ricordo anche il 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni anche attraverso Whatsapp. Buona giornata a tutti. Grazie.